Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca and I'm excited to announce season 4 of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Basta un fil di voce, proprio un pelino da mettere sulla strumentale per affermarsi proprio a livello stilistico su tutto e tutti. Quando sei Playboy Carti, un personaggio che io personalmente non ho ancora capito, che ho imparato ad apprezzare da poco, perché c'è stato proprio un cambiamento dentro di me che mi ha permesso di guardare con altri occhi tutta questa tipologia di artisti. E adesso, con questa nuova prospettiva, io veramente riesco ad apprezzare, a capire e a percepire cosa vuol dire quando gli altri dicono che certi artisti stanno su un altro pianeta. E non solo dal punto di vista stilistico, anche a livello testuale. Nel senso che un buon testo oggi deve raccontare una storia, deve avere delle immagini chiare e non devono essere per forza collegate. Cioè tu non devi vedere subito il senso, non devi vedere subito. Cioè sono testi questi che forse arrivano col tempo perché partono dal delirio della mente. Questa è la bellezza del creare musica in studio. Spesso questa gente magari improvvisa sul momento e poi capisce. Ed escono le cose più vere, una tipologia di lavoro che io non ho capito fino a che non l'ho attuata. Cioè, quindi io devo dire che questa traccia, oltre a farmi godere tanto, mi trasmette tantissimo. Non posso fidarmi dei miei occhi tipo come faccio a vedere. Ci sono frasi di queste portate, buttate lì. Io sono su di giri, lei è su di giri, alza il volume, alza il volume. Nel senso, che cosa stai dicendo? Non lo so, sta mostrando una situazione. C'è un cambio proprio editoriale nel monologato. Io in questo episodio volevo approfittare per dire questo. C'è un cambio netto. Un cambio in quanto adesso andiamo a vedere la situazione senza preoccuparci di quello che l'artista mi vuole comunicare. Perché a volte l'intenzione dell'uomo è molto inferiore alla potenza della sua opera. E allora a volte tanto vale lasciarsi all'istinto e magari ti ritrovi anche nuovamente a casa. Cioè con l'idea che avevi concepito ideologicamente. Però l'hai vissuta ed espressa senza la costrizione. E quindi adesso che riesco a capire certi artisti, godo nello scoprirli e nell'entrare nel loro mondo senza giudicarlo.